Catania che aggancia sulla sinistra, ancora Catania, proprio il destro, il lancio soffice, morbido per Cordiano, l'arbitro, un po' di scondamento del capitano Cedero Sornetti, l'arbitro, ci gira la punizione contro, ha visto così. Incredibile. Faccia Giu-Tuchini sotto e che Catania, bastanti dalla rovescia, la vedi alla rovescia il punizione. Si girate la camera, mi date poco spazio, mi ricca.